Buona serata e ben ritrovati in diretta con l'informazione dedicata al Veneto. In apertura ci sono i riflessi dall'ingresso dell'obbligatorietà dei Green Pass per quanto riguarda per esempio i certificati di malattia. Ebbene da Treviso è intervenuto il Presidente dell'Ordine dei Medici della marca, Luigino Guarini, per invitare i colleghi a seguire la corretta procedura nel rilascio dei certificati medici per i lavoratori in seguito proprio al boom di assenze per malattie. Vediamo, ce ne parla il collega Raffaele Ferraro. Si è verificato un aumento medio del 10% delle assenze per malattie in provincia di Treviso dall'entrata in vigore del Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro, con picchi del 20% in alcune aziende. Da qui l'intervento di Luigino Guarini, Presidente dell'Ordine dei Medici di Treviso, che ha sottolineato che i medici devono visitare i pazienti per poter rilasciare un certificato e non è sufficiente un contatto telefonico. Senza verifica personale si configura invece il reato di falso ideologico, perseguibile penalmente. Il caso più grave si è segnalato presso l'azienda di busse corriere trevigiana MOM che ha dovuto annullare svariate corse per l'assenza di ben 101 autisti. MOM ha già preannunciato tramite una lettera che chiederà i danni agli assenti ingiustificati. Restando in ambito Covid, il direttore della cardiologia dell'ospedale Caffoncello, Carlo Cernetti, ha fatto ieri il punto sulle reazioni avverse sviluppate in seguito ai vaccini. Sono 11, a fronte di 1,3 milioni di somministrazioni. Le statistiche dimostrano che lo sviluppo di una miocardia a seguito dell'inoculazione del Siero si verifica in 12 casi per milione, a fronte di 23 mila su milione, cui la patologia si presenta dopo aver contratto il Covid. Proprio alla luce di questi dati, il medico sottolinea come sia importante vaccinare anche i ragazzi. Andiamo a vedere i numeri di giornata sul fronte del contagio in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 446 casi di positività, 4 le vittime, a riferirlo al bollettino della regione. Il numero complessivo degli infetti dall'inizio della pandemia sale a 476 mila e 39, quello delle vittime a 11 mila e 814. Varia di poco il dato dei soggetti attualmente positivi, 8 mila e 965, mentre scende il numero dei ricoveri nelle aree non critiche. Oggi vi sono 196 malati Covid, meno 6 rispetto a ieri, mentre sale a 33 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ed ora apriamo la pagina economica. La questione del caro energia rischia di stritolare le vetrerie di Murano e la questione è finita sui tavoli del Parlamento. Ieri la deputata Sara Moretto del gruppo di Italia Viva in Commissione Attività Produttive è intervenuta sulla questione portandola all'attenzione della sottosegretaria della transizione ecologica Ilaria Fontana. Oggi l'onorevole del Partito Democratico Nicola Pellicani ha depositato un'interrogazione rivolta ai ministri dello sviluppo economico Giorgetti e della transizione ecologica Cingolani. Il governo valuti urgentemente quali azioni mettere in atto tra quelle a breve termine di natura fiscale messa a disposizione dall'Unione Europea per calmirare l'aumento dei prezzi del gas a tutela delle micro imprese artigiane, realtà d'eccellenza e vera ossatura del sistema economico italiano. Tra queste appunto le vetrerie di Murano, una tradizione millenaria riconosciuta in tutto il mondo che rischia di essere seriamente compromessa, ha argomentato la Moretto. Accolgo con grande soddisfazione l'impegno del governo a valutare anche ulteriori iniziative e poi ricordo che la produzione del vetro richiede un forte consumo di gas, il cui prezzo è aumentato da 0,23 centesimi a 0,90 al metro cubo. L'aumento della spesa per la produzione da 2 a 7,5 milioni di euro l'anno potrebbe seriamente infatti compromettere le vetrerie di Murano. A proposito del mondo dell'occupazione, una felice collaborazione tra una cooperativa sociale del territorio e un'azienda di occhiali porterà fondi da destinare all'ambiente. È successo in Cadore, l'idea è davvero originale, ce la racconta Alessia Trentin. Marmarole, Sorapis, Trecime e a inizio del 2022 arriverà anche la Iernola. Queste le montagne cadorine che danno il nome agli occhiali della nuova linea Le Mecrode dei centri ottici 5G di Auronzo di Cadore, una linea che guarda con attenzione ai problemi del territorio bellunese. Una parte del ricavato delle vendite infatti sarà donata alla Cadore Società Cooperativa Sociale e destinata ad attività di manutenzione ambientale. Sentiamo meglio di cosa si tratta dalla presidente della cooperativa Cadore, Alessandra Buzzo. Felice l'intuizione dei centri ottici G5 della realizzazione di questa linea di occhiali dedicata ad alcune delle montagne più belle del Cadore, con la collaborazione della giovane bravissima Elsa Calligaro. La scelta di destinare parte del ricavato della vendita di questa nuova linea di occhiali alla cooperativa Cadore per la realizzazione di un progetto di manutenzione ambientale. È stata presentata oggi invece all'interno dello stabilimento Electrolux di Sussegane, in provincia di Treviso, la nuova linea produttiva Genesi, un insieme di due percorsi ciascuno della lunghezza di 600 metri dedicati alla produzione dei nuovi modelli di frigoriferi da incasso e che fa del sito trevigiano il più automatizzato al mondo nel sistema Electrolux. Il sistema è stato spiegato permette di affidare a strumenti meccanici il 49% circa delle operazioni prima svolte dal personale. I pezzi realizzati, tre modelli di linee di frigoriferi che andranno a breve a rappresentare la totalità della produzione di Sussegane, sono 94 all'ora. L'assemblaggio viene lungo una successione di 110 strumenti robotizzati per ciascuna linea, all'interno della quale si trovano circa 70 postazioni di lavoro, nelle quali prevalentemente gli operatori sono occupati nel controllo e nella gestione degli strumenti 4.0 più che nel montaggio dei singoli pezzi. L'introduzione delle linee di genesi con un investimento di circa 130 milioni di euro una volta regime nel 2024 potrà assemblare circa un milione di frigoriferi l'anno i quali assorbiranno i modelli della linea Cairo avviata nel decennio scorso e alla quale si deve in larga misura la ripresa dello stabilimento entrato in crisi negli anni a cavallo del 2010. La cronaca ora, la tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri, a perdere la vita in provincia di Vicenza, Pietro Cuozzo, 23enne residente a Verona, che è rimasto coinvolto nell'incidente accaduto lungo la A4 nello svincolo di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Drammatico il bilancio del sinistro, oltre alla persona deceduta anche una ferita grave. I pompieri arrivati sul posto hanno messo in sicurezza il mezzo ed è estratto dal piccolo veicolo commerciale una 21enne rumena residente a Verona che è stata presa in cura dei sanitari del suo M118 stabilizzata e trasferita in codice rosso in ospedale. La persona deceduta invece, come detto Pietro Cuozzo, verosimilmente morto dopo essere stato sbalzato dal veicolo e colpito da altri mezzi in transito. Sul posto la polizia stradale di Padova, il personale ausiliario dell'autostrada. Secondo una prima ricostruzione sembra che entrambi gli occupanti fossero privi delle cinture di sicurezza. La Guardia di Finanza di Venezia invece ha sequestrato centinaia di migliaia di articoli commercializzati in assenza delle indicazioni di tracciabilità, sicurezza e qualità dei prodotti e quindi potenzialmente pericolosi per la salute. In particolare i baschi verdi della compagnia hanno trovato in esercizi commerciali situati a Mestre, Sandonà di Piave, Concordia Sagittaria, gestiti da imprenditori di Ennia Staniera, circa 60.000 articoli per la pesca, per la casa e articoli per il Natale, già in vendita sugli scaffali ma privi delle informazioni relative alla denominazione merceologica, all'identificazione dell'importatore, alla presenza di materiali o sostanze eventualmente pericolose o nocive per la salute dei consumatori. In un negozio sono stati anche sequestrati 200 kg di cibo per animali, scaduto addirittura dal 2019. A Concordia Sagittaria le fiamme gialle del gruppo di Portogruaro hanno trovato 2.339 articoli di varia tipologia privi delle indicazioni previste, mentre a Cavarzere, la compagnia di Chioggia ha scoperto 6.900 articoli di Halloween e 8.850 metri di carta plastificata, anche questi che non rispettavano le normative di settore. Presentato a Cafarsetti a Venezia il Festival Dentro l'Arte 2021, Nutrirsi di bellezza, in programma per un mese da domani nei musei, nelle biblioteche e negli spazi culturali della città lagunare. Vediamo. È stato presentato ieri mattina a Cafarsetti il programma della sesta edizione del Festival Dentro l'Arte 2021, Nutrirsi di bellezza. Un mese, da domani a domenica 21 novembre, di eventi, laboratori e percorsi formativi per ragazzi, adulti e famiglie, organizzati dal Centro di Ricerca e Servizi Barchetta Blu, l'associazione che organizza attività rivolte a bambini e alle loro famiglie residenti a Venezia, con il patrocinio dell'assessorato alle politiche educative del comune. Il cartellone del Festival è stato concepito con il proposito di integrare l'arte nella vita di tutti i giorni, per migliorare l'equilibrio psicofisico dei suoi fruitori, avvicinandoli al bello, curando le bellezze artistiche cittadine. Si svolgerà in musei, biblioteche, spazi culturali cittadini e tra i vari eventi c'è spazio anche per i piccolissimi iscritti a nidi e scuole dell'infanzia. Sono anche tanti percorsi formativi gratuiti destinati agli adulti, per esempio webinar sul potere dell'arte rivolto a insegnanti e appassionati d'arte, ma anche un corso di disegno dedicato agli insegnanti della scuola primaria. Andiamo a Jesolo, dove si festeggia il premio per il miglior parco acquatico d'Italia, andato al Caribe Bay della località della costa dell'Alto Adriatico. La cerimonia di premiazione della nuova edizione dei Parks Mania Awards, il prestigioso riconoscimento che ogni anno la testata giornalistica Parks Mania assegna ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per le specifiche iniziative in ambito di divertimento ed eventi, ha visto appunto triunfare il Caribe Bay, il parco acquatico a tema di Jesolo, che è stato confermato appunto come il migliore d'Italia nell'arco del 2021. Si tratta della tredicesima volta su 19 edizioni della competizione nessuno come il Caribe Bay nella storia. Chiudiamo con una flash per quanto riguarda il calcio. Sei tifosi dell'Empoli sono stati accusati di comportamenti pericolosi in occasione della partita contro il Venezia dell'11 settembre scorso e quindi sottoposti alla misura del Daspo emessa dal questore di Firenze. Quel pomeriggio a Empoli, al termine della partita, durante il deflusso dei tifosi ospiti, la polizia aveva intercettato il gruppo di ultras locali armati di bastoni e sassi appostati tra le vie della cittadina. Il gruppo, vedendo gli uomini in divisa, poi sarà disperso. Alla fine con le analisi delle videotelecamere di sorveglianza sono arrivati a rintracciarli. Ora siamo pronti invece a farci raccontare alcune delle anticipazioni sulle notizie che troverete domani in edicola sulle pagine del Gazzettino, stasera in compagnia di Vittorino Franchin, dalla redazione centrale. Buonasera. Buonasera a voi telespettatori. Domani sul Gazzettino la notizia è che si farà fatica il Veneto a raggiungere la soglia di immunità nelle prossime giornate. Zai aveva indicato come data limite il 30 ottobre per raggiungere l'80% della vaccinazione. Negli ultimi giorni invece il trend delle nuove dosi ha molto rallentato, tant'è che viene superato regolarmente ormai da qualche giorno, dall'inizio di questa settimana, infatti dalle terze dosi, quindi il Veneto farà fatica a raggiungere la soglia del 40% che dovrebbe garantire l'immunità di gregge. Nel contempo invece aumentano i tamponi che vengono effettuati ogni giorno, soprattutto nelle farmacie, da chi non si è ancora vaccinato. Al di là di questo, noi riprendiamo la storia che abbiamo raccontato oggi di quel volantino shock apparso all'officina aeronavali di Tessera, in cui il Green Pass veniva di fatto messo in relazioni alle leggi razziali e alle politiche del regime di Mussolini contro gli ebrei. Il responsabile del sindacato, che è anche consigliere della Municipalità di Favaro per conto della Lega, verrà, tra virgolette, processato dal partito, ossia deferito alla direzione regionale per valutare il suo comportamento. Un'altra notizia sulle pagine di cronaca è invece la tragica morte dell'alpinista che stava scalando la ferrata sul Monte Cristallo, sopra Cortina, un turista tedesco che è precipitato poco dopo essersi fatto un selfie e aver spedito il messaggio alla moglie a casa. Raccontiamo poi nelle pagine economiche la lunga storia delle acque minerali San Benedetto, 50 anni di storia di una grande industria veneta che si è fatto conoscere nel mondo. Infine nelle pagine della cultura la grande mostra sull'alvione del Polesine che sarà aperta sabato prossimo a Rovina. Grazie a Vittorino Franchin per questi ulteriori aggiornamenti rispetto alle notizie sulle pagine del Gazzettino che troverete domani in edicola. Noi prima di congedarci vi lasciamo in compagnia delle previsioni del tempo dedicate al Veneto e l'appuntamento con informazione nel nostro notiziario per domani alle 20 e 30. Buona serata. Un saluto agli amici di Udinese TV che ci seguono dal Veneto. Nella giornata di venerdì assisteremo a un miglioramento delle condizioni a causa dello spostamento verso il centro-sud della perturbazione atlantica che negli scorsi giorni ha interessato le regioni del nord. Ci attende quindi una giornata con tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione. Vi segnalo solo qualche residuo fenomeno in mattinata sui settori meridionali. Il tempo andrà via via migliorando con il passare delle ore e ci attende un weekend all'insegna della stabilità. Temperature massime ancora gradevoli di giorno intorno ai 18-20 gradi ma molto contenute specialmente in mattinata a causa di correnti provenienti da nord. Con questo è tutto ma per restare sempre aggiornati scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie a tutti.